Siamo qui al complesso monumentale di San Domenico Maggiore, siamo ospiti del Mab Wine Art Museum nel contesto del Festival dei Vini del Mediterraneo. Siamo presenti anche oggi con Mosaico per Procida per esprimere tutta la scala valoriale che la bottiglia celebrativa creata da Roberto Cipresso e la mia associazione Identità Mediterranea ha portato in dono a Procida Capitale Italiana della Cultura e ci auspichiamo che questo gesto significativo possa diventare un qualcosa di replicabile per il territorio campano e non solo perché alla fine il teamwork, lo stare uniti e il perseguire degli obiettivi comune vince sempre. Grazie a tutti!